MAGIC THE GETTURING RIVOLTA DELL'ETERAL E CHUCKS SI SBOUSTA TOOVERS eccoci qua con King Vani bentornato da Tokyo e si ninja mi avevano catturato ma sono riuscito a scappare ma non poteva mancare per lo sboosting di RIVOLTA DELL'ETERAL l'abbiamo atteso apposta eccolo qua il nostro bel case italico italico ma che bello che box scegliamo quello che sembra più inventivo qual è che questo qua quello sotto? magari quello sotto quello sotto vai 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 attenzione e ci siamo preparati anche voi ci gusteremo una busta per tipo del delle altre lingue no? se vogliamo essere international da questo giro campionato europeo di MAGIC esatto il tedesco spagnolo inglese francese francese c'è anche francese l'inglese lo sboosteremo con col bundle con il bundle c'era una volta c'era anche il portoghese che ho scoperto nelle mie ultime ricerche ormai essere tradotto solo per il Brasile hanno bombardato il portogallo non c'è più il portogallo hanno giocato a risico il portogallo è saltato comunque se volete una busta in portoghese comprate un biglietto al periodo di janeiro e la trovate bene 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 e rivolto a dell'ETER si sbusta Luca cosa devo trovare? questa serie ci vuole cuore cuore? bisogna trovare il cuore il cuore? esatto il cuore di jane no come si chiama? il cuore di kiran il cuore di kiran benissimo provvederemo allora partiamo carte common inseguitore d'ETER assenuatore della fungeria fuga dei rinegati torretta nel consulato planatrice dell'ETER sia nell'ETER giustamente serbatoio semovente aquila piuma piuma aurora difficilissimo da dire pastore dell'ETER solvento universale bandar sgraffignatore alien common fratelli di italia no fratelli del vento da incursione il cinghiale delle zone di confine abile di emozione e attenzione mitica cuore di kiran Luca possiamo andare a casa? vediamo il video altro box altro box cuore di kiran non ci credo che l'hai chiesta ci vuole cuore mi ha trovato il cuore di kiran la prima busta non so cosa sono rimasto senza parole davvero spettacolo una foresta e chi il resto non me ne interroga niente fa niente ci ha dimenticato anche la scatola adesso auguri un attimino un time out un attimino riprendere la scatola dove ho messo le scatole attenzione cuore di kiran cuore di kiran e che cosa dire dobbiamo trovare lo foil a questo punto o l'invention c'è sempre l'invention a trovare l'altro è anche qua è mitica no l'invention la masterpiece la masterpiece la masterpiece ehi l'emozione qua ormai sentiamo secondo busta secondo busta ragazzi qua è spettacolo madonna ragazzi è spettacolo picchiatrice dello sfruttatorio torniamo calmi comune dorso crestuto di lantù demolizione audace costrutto da combattimento negare shock colto in fragrante presidio mobile crescita sfrenata fuga nei vicoli le uncommon ribelle vendicativo espresso deragliato modifiche la sentenzione richiamo dell'unità com'è? è meglio il cuore è decisamente richiamo dell'unità la carta per chi legge il giornale dell'unità se c'è ancora non lo so non so se l'ha chiuso o chi va alla festa dell'unità c'è l'estate a fare le feste del paese c'è la festa della festa dell'amicizia la festa non so se siete voi tubers fare le feste del paese qua ci sono e vabbè andiamo avanti le uncommon della busta questa qua ce la vediamo un po' più velocemente però le common le uncommon macchinazione di conti progetto di servomeccanismo frenesia energetica ma e attenzione competenza di SRAM com'è questa competenza bianca carta rara non male non male bene bene poi ci le faremo tutte come sempre nella presentazione dell'esponsione e non ho ancora visto una carta poi vabbè è tempo di foil guarda si trovano solo quelli di chiera niente foil e va bene va benissimo attenzione attenzione e baral commissario della conformità la carta rara questo baral com'è bella bella probabilmente la migliore cattura leggendale di questa serie bene segnatevela poi la riguarderemo questo e il resto della busta le carte common e le tre carte in common costruttore sinuoso assalto mostruoso e specialista in riparazioni anche se devo dire anche la cattura leggendale a verde non è male si vediamo se troviamo anche quella verde sarà fatto sarà fatto Luca so che c'è un uncommon molto bello in questa serie si un uncommon da 90 probabilmente meglio di un sacco di rare veramente un uncommon di qualità come si chiama? caduta fatale caduta fatale adesso l'ho ritotto era una ristampa questa giusto? si era da m15 mi pare che non rivelevamo più piacevole ristampa dopo questi due anni finalmente tornato calabrone della fonderia fiamme fameliche e attenzione reggente di free jam free jam come è? free jam è un tipo di rap potrebbe essere un free jam è un free jam attenzione grande Luca vado continuiamo continuiamo questo box è iniziato coi botti proprio di capodanno attenzione carte common poi arriviamo con non common con un bel dispositivo di pacificazione situazione pericolosa ladro dell'etere protetto e spia spia tempralesta beh Luca non è molto soddisfatto di questo spia temprale com'è? troppo no voglio la balista come rara la balista come rara voglio la balista va bene sarà fatto prima non hai chiesto il cuore adesso la balista o la balista magari anche la balista non sarebbe male attenzione attenzione assembratore di ingranaggi zannuto scaglia rugosa o scaglia ragusa requisitrice astuta e giuramento di Aciani un bel giuramento di Aciani questo incantesimo leggendario com'è? 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 è bello mostra il momento in cui Aciani entra a far parte dei guardiani anche lui il nostro primo planeswalker multicolore nei guardiani ricorda un po' delle carte dal giuramento dei guardiani o sbaglio esattamente bene ribelle in prima linea la prima uncommon della nuova busta automa vigile il resto delle common e arriviamo alle uncommon con un bel spezza barricate spinta fatale spinta non è la caduta spinta fatale questa qua è la uncommon più bella della serie cioè un uncommon di quelle di gran lusso gran lusso la mettiamo da parte così vediamo quante ne troviamo e campionessa di Sosa è oggi un bel recupero segreto che com'è questo recupero segreto inquadro la spinta fatale è meglio la comoda spettacolo bene 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 si continua una bella spinta fatale foil non abbiamo ancora visto foil foil siamo andati alla wise e la troviamo fuori spettacolo prepariamo prepariamo il biglietto attenzione stiamo per preparare il biglietto e attenzione c'è un guardiano nel tesoro stratagemma dell'illusionista pilota temerario e mimic metallico carta rara bello molto bello molto bello si mi piace benissimo poi 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 abbiamo ancora siamo ancora provo colonna ancora siamo alla decima busta attenzione ce lo gustiamo bene spettacolo questo box veramente questa rivolta dell'etra mi piace un casino dunque le common come sempre le facciamo girare se no ci mettiamo una vita bolide spericolato inaugurale in common modifica da assedio ammiraglio aeronauta e sostegno dalla k dalla k però c'è anche una foil attenzione attenzione te eri dettolentuoso no no è nera è uncommon però niente male una buona uncommon fine bene bene ci piace la prima è nera è uncommon quasi ma va bene non ci lamentiamo era meglio questa della rara di prima abbastanza bellissimo bene 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 continuiamo con lo sbusting e carte common qui la piuma aurora abbiamo già trato i 12 mi sembra e uncommon pattuglia della spirale veggente dell'etra di pehema o di panema a scelta sacciciatore di avionavi uh mitica creatività indomita com'è questa mitica rossa luca ti piace non ti piace è una carta molto interessante anzi se qui si potrebbe fare un masto tutto attorno al momento non è ancora da vedere però è interessante può avere un futuro ma c'è anche una foil c'è anche una foil c'è un bel pastore dell'etra è una common foil carina no? com'è? vabbè ci accontentiamo della mitica va bene va bene speravo che era bella bene bene la seconda mitica del box la prima ragazzi è il cuore di Kieran non si poteva chiedere di meglio due mitiche nella prima colonna le prime 12 buste due mitiche vado il box è veramente spettacolo andiamo avanti le common della busta le uncommon riserva nascosta guardiano felidar e affondatore di recupero mitica ancora produzione meccanizzata terza mitica terza mitica spettacolo ma come è successo a questo box? è una foil è un bello strumento di malvagità come questo strumento? migliora mitica? no migliora mitica ok ok bene comunque è una common foil vabbè non ci dispiace e produzione meccanizzata è la terza mitica del box e questo box tubers potrebbe essere veramente qualcosa di spezzacolare abbiamo schiaffato l'imersimile vediamo quante mitiche riusciamo a trovare vediamo 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 però per colonna fa nove sarebbe bello magari due cuore di Kieran box super sbagliato super spezzacolo attenzione e continuiamo le uncommon costruttore repressore donna della forgia viva della forgia vita pardon rivoluzionario curazzato e convogliatrice braccio lucente carta rara carta carina come dice che ci dice il nostro Luca bene 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 si continua come sempre alla caccia di cosa l'invention non vogliamo trovare l'invention l'invention attenzione negare le common poi 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 le uncommon con tocco di tezzeret abile rimozione magare di trofei e attenzione con le torre di rotami la baia box si solitamente la carta di second con baia box la rara solitamente carina infatti anche questa non ci dispiace non ci dispiace bene 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 andiamo avanti le common come sempre le faccio comunque girare se volete vederle fate un bello slow motion ingegnere della salda salda poli o salda poli non lo so modifica aerea e ingegneria inversa minatrice di geodetere nome più facile poteva ammetterlo però rara e la terra è un altro bel token questa rara interessante si presta qualche combo questa minatrice ci piace ci piace ci piace dopo l'avventura di kadesh eccoci qua con rivolta dell'etere e le sue buste le sue carte e la corazzata del consolato eteride talentuoso che mi è andato prima a fofo foil ma che bello chiaramente il mio foil è più bello ovvio off course al resto dei totteri attenzione il colosso pacificatore questo artefatto veicolo raro com'è questo colosso pacificatore uno dei migliori veicoli di questa serie insieme al cuore di kira è un altro veicolo che vorrei trovare lo troviamo ci sono ancora un sacco di buste perché no perché no qua stiamo trovando tutto è il box dell'anno ed è solo gennaio spettacolo spettacolo le common le uncommon con costruzione efficiente raffinatore fuori legge risveglio forzoida e attenzione repressione del consolato la rara della busta bianca com'è questo è una carta che potrebbe avere spazio nelle side con molti artefatti ok vediamo come come andrà come andrà allora le common le uncommon con ammiraglio aeronauta ora un altro bell'ornitotto che ci piace erboristi nascosti è un bel ronzio dell'invenzione rara blu questo ronzio una carta che ricorda un po' la corda della convocazione la rara verde che per il tema creatura questa fa lo stesso per gli artefatti quindi corda un po' sutilizza vedremo se anche questa la seguirà se avrà gioco come ci ricordi tu ogni tanto e attenzione aeronauti aviolanciati attivista rinegato e situazione pericolosa la spinta fatale per ora è solo uno per rivoluzione di Pia la Pia non è mica la mamma di Dicandra no si è lei è lei è lei è lei è a capo della rivolta di questa serie la capo rivolta esattamente bene 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 e e e la stiamo cercando una carta una carta bella grossa non l'abbiamo ancora trovata però abbiamo ancora un sacco una l'abbiamo trovata frenesia energetica assematore di ingranaggi assalto mostruoso competenza di Rishcar la rara verde della busta questa competenza ti piace Luca? si carina la seconda competenza l'abbiamo già trovata quella bianca sono sbagli ci mancano le altre tre da trovare ancora ancora un sacco da sbustare e allora le common 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 le facciamo insieme bastare velocemente gigante infuriato con common costruttore sinuoso fiocciniera infallibile e il portuale del mercante ma vedo il foilame vedo una guardia del mercato notturno ra come pardon comune reversica foil reversica lo sconfuso con un altro gioco che si chiama poche 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 volte ogni tanto succede si sbusta di tutto qua e a sbustare di sera si è stanchi eh si eh si attenzione le common e poi ribelle vendicativo tocco di tazzered intruso famelico e attenzione mitica macchina del paradosso artefatto leggendario una carta molto da mazzi combo potrebbe avere il suo utilizzo vedremo nelle prossime settimane ma ha potenziale ha potenziale e siamo a quattro carte mitiche quattro carte prima e dopomenica c'era mitica nella decima bustina ci sa mai che facciamo il bis facciamo il bis vediamo 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 se questo box è così è difficile però vabbè noi ci speriamo ci proviamo requisitrice astuta rotatore rinnegato fratelli del vento da incursione attenzione oscuri segnali carta rara stregoneria rara com'è 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 questa stregoneria è una carta molto interessante perché funziona come una carta che deve uscire nella prossima serie quindi al momento avrai al momento non avrà utilizzo però è un segnale per quello che ci sarà avvenire segnatevi questa carta shock questa busta parte con shock vediamo se ci sciocca infestazione di gremlin ingegnere della saldapoli o saldapoli modifica aerea e attenzione veto carta rara e vedo del foil c'è una riserva nascosta uncommon foil ci piace bella è ancora più carina la rara che abbiamo trovato probabilmente la migliore rara blu della serie eccola qua il nostro veto gli sta un istantaneo nome semplice effetto semplice ma forte bene 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 allora la foil la mettiamo insieme alle foil yes e seconda terza colonna terza colonna stavo dicendo un secondo ma in realtà la terza colonna venticinquesimo busto sono 36 le buste del box di rivolta del leder come tutti i box di magic delle serie regolari specialista di riparazioni raffinatori fuori legge magari trofei attenzione competenza di ya henny la terza competenza esattamente esattamente lo stavo a pentire anche la migliore competenza quella nera quella nera bene 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 poi li vedremo nella presentazione tutte le competenze cinque competenze magari le troviamo tutti si semmai beh sono rare ci può anche stare le uncommon pardon le common mi confondo sempre aeronauti aviolanciati madò bolide spericolato affondatore di recupero e rara competenza di cari zev però manca solo quella blu manca solo la blu e vabbè e facciamo le cinque competenze madò il box è perfetto questo qua quindi 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 qui dobbiamo trovare quella carta foil vediamo 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 c'è un bel dragato dell'entoterra rodeo e rinegato di nar nar nam nar nam totterista dissidente fiocinerà infallibile intervento eroico carta rara della busta è una carta verde intervento eroico l'intervento un po' così però anche quella è una carta che magari in qualche site si userà bene perché poi ovviamente non c'è solo il mail ma anche il site è molto importante pilota temerario cinghiale delle zone di confine è tipo il terzo mentre abbiamo solo solo uno dove era la carta nera che ci piace lo spinto via militare dell'edersfera questo è l'altro veicolo che volevo trovare benissimo benissimo Luca ma hai chiesto ho trovato tutto quasi tutto manca solo una carta va bene la carta che manca è molto difficile perché ce n'è uno ogni 144 buste mi sembra 4 box ogni 4 box quindi non è così semplice però 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 magari questo è l'uno di 4 non lo sappiamo ancora lo scopriremo solo sbustando eteride talentuoso riserva nascosta stratagemma dell'illusionista rivoluzione di Pia è ancora lei seconda coppia di riduzione di Pia comunque questa è una espansione piccola quindi trovare delle rare in più copie nella stessa box non è così difficile esatto vorrei trovare anche quella uncommon quella nera in più copia ma finora una copia sola vabbè 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 andiamo avanti magari magari troveremo fuori Zaludo scagliarugosa rotatore rinnegato erboristi nascosti e competenza di Baral ci mancava la blu abbiamo completato 5 competenze su 5 abbiamo fatto la plane ora però bisogna specificare che ogni competenza è legata alla cattura leggendaria noi però abbiamo trovato mi pare quella blu e basta e quindi devono trovare un'altra va bene vediamo se possiamo completare anche il ciclo delle catture leggendari spettacolo ingegneria inversa guardiano nel tesoro veggente dell'edere di Pehema vedo anche del foil portola del mercante e vedo del foil guardiano fenidar è molto bella molto bella anche l'artori è molto bella sì questa è una carta che si giocherà moltissimo in standard è una nuova combo con una planeswalker della serie precedente che è Sairai quindi sicuramente spettacolo il foil non male per ora box veramente ma ci manca ancora la foil rara se non sbaglio è vero è vero o la foil mitica ma no il cuore mitico ma no faccio una capriola giuro mi faccio una capriola intruso famerico totterista residente campionessa di Sosa battaglia al ponte attenzione il foil esecutrice del baruardo comune non è lei non è lei però abbiamo ancora possibilità per la capriola 4 buste per la capriola vediamo se c'è il cuore il foil faccio la capriola e se c'è anche l'invento faccio anche il capriola che per l'invento via ci giochiamo la capriola attenzione cubers so che voi volete la capriola io più di voi ve lo assicuro attenzione rivoluzionario del pugno martello c'è del foilame qua lo vediamo spezza barricate arresta i totteri furioso della cintura verde rara ma 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 foil 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 recupero segreto rara niente capriola qua ragazzi non è proprio una rara va bene è meglio è meglio il guardiano si è anche meglio l'elefante spettacolo vabbè abbiamo ancora tre buste ci può essere ancora la capriola attenzione dai fatti inventore fatti inventore attenzione ragazzi qua l'emozione sale attenzione attenzione rara fiamme fameliche pattuglia della spirale gigante infuriato e rara speranza di Ghirapurra abbiamo bisogno di speranze abbiamo bisogno di sperare due buste speriamo queste due buste poi c'erano anche tre buste in versione other language vediamo 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 attenzione qua si va ormai velocissimi ladro dedere protetto dispositivo di pacificazione rinnegato di nerame attenzione liberare i gremlin carta rara e c'è ancora una busta ancora una ancora l'ultima busta vediamo se è uno di quattro è pesante? è pesante è pesante sì è pesante sì allora un bel rodeo per partire allora vabbè le comuni le volevo dirle ma le lasciamo andare allora c'è fu c'è fu il fulano in fondo infestazione di gleaming attivista rinnegato dono della forgia vita non male e attenzione è una paru de foi una paru de foi vale più o meno quanto di invenzione siamo lì siamo lì giusto più o meno siamo lì siamo lì siamo visti tutto lo spusting di rivolta dell'Ethere che esce anche in inglese ma l'inglese lo vedremo nel bundle che apriamo tra poco e ci sono anche altre tre lingue per il mercato europeo che oltre l'inglese italiano c'è il spagnolo il francois e il tedescolo partiamo dal tedescolo ci apriamo una busta giusto per fare un po' di per essere un po' in Europa siamo europecizzati non so se dice così in tedesca però per queste buste c'è un cavillo c'è un cavillo devi dire tutti i nomi e tutte le carte senz'altro è ovvio allora in tedesco in tedeschiac il buxte pactum mit 15 karten si chiama Hedrebellion adesso apriamo buxte in tedesca dunque dunque bisogna per pronunciare bene tedesca bisogna parlare come tedesca allora c'è vagal sietze ceruxung kartekommen prazike schlachte eisenrath precker erfindung grecchgetze ruken ma kei nume veten interlanskiva o come keulans dicen embrall maschki nevernikten natürliche über allen auer alles biotrinieske kavallerien udensil der bichette huber 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 henghung che sembra un'imprecazione lehkommond ankommen ver fershten köte ferrate ferrati felidar wachter quel quale prima che esattamente berkonskrabben attenzione biotriniesken bestiarium vabbè nel box non l'avevamo trovato esatto era la carina spettacoli spettacoli tedesca andate franso benvenu al fransais a tout le monde e i francesi sono esperti con le rivoluzioni e le rivoluzione legalté rivalité fraternité come kevra si dice allora le rivolte eteric la rivolta di enrico no la rivolta di enrico rassigan transporteur de maréms il transporteur de maréms gardé du marc dukturek aiglé aeux plumet daubé anche in fransais lame truee automatet verdoyant brusé de l'aventure anche con me meccano pezzé dissidente uuuuuh c'è il fucile attenzione champion ferraliseur rivoluzione de masse poing e andé l'era lé balistea abulente la balista la balista niente male la balista spettaculale aeronauts de l'argela fai lé fa niente c'è la balista c'è la balista balistea 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 eeeh doffole andé andé arriva 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 viva l'evoluzione della spagna espagnola la rivoluzione no facciamo la come facciamo la come che si chiama il doffolo arriva arriva andé spiti gonzalez spiti gonzalez la rivolta delle terre sobra de kindas cartas spero si dica cositas signoritas signoritas attenzione chiuda por il calejon calejon quando gioca nel napoli proprio lui rivoluzione de chandra censura metallica arriva arriva desamador rebelde bandar aggregastior no aggresiador matador demolicione arriese al gara leopardo decorgiente eterica constructo lusador inventor del bastione mapa de los renegados lean commons arreglador renegado renegade paracadistas paracadistas bossero de servo e la rara della busta è parale signor della sommission bosche del bosche del bosche del bosche spagnol e il bosche spagnolo tioma 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 ci siamo divertiti un po' anche con le altre lingue è molto divertente sbustare le carte nelle lingue diverse dall'italiano all'inglese perché sono un po' diverse ci sono anche quelle russe che poi facilissime facilissime quelle quelle giapponesi lasciamo stare tioma tioma e da king bunny alla regia da boss allo sposti e tutto ci vediamo alla prossima ciao goodbye